Musica Buongiorno a tutti giupini e giupina, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale Che cosa realizzeremo insieme oggi? Domandona che non sta a fare niente perché l'avete già visto dalle immagini di copertina Comunque in questo video andremo a realizzare insieme questo simpaticissimo personaggio Se volete vedere altri personaggi mi raccomando lasciatemi un commento qui sotto al video Allora io vi lascio il tutorial, un bacio a tutti, ciao ciao! Abbiamo realizzato la prima parte del nostro schema A questo punto all'interno posizioniamo un dischetto in cartoncino E adesso continuiamo con lo schema scritto Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.